Io, Giulia Colbert, per mezzo del mio testamento, nel 1864, ho fondato a Torino l'Opera Barolo, per avere la certezza che la carità iniziata insieme al mio amato marito, Carlo Tancredi, potesse continuare. Animati entrambi da profonda fede, abbiamo impiegato tutte le nostre risorse a servizio dei poveri, intrecciando arte, cultura, pedagogia, politica ed economia, coinvolgendo le forze vive della città, dalla chiesa alla società civile. Abbiamo risposto alle emergenze sociali del tempo, confrontandoci con le migliori esperienze europee. Il Palazzo Barolo, la nostra casa, è diventata un luogo di ospitalità. Abbiamo aperto lì un asilo per i bambini delle famiglie operaie, poi una casa famiglia. Nelle nostre proprietà abbiamo aperto un ospedale per bambini disabili e una scuola elementare per bambine povere ad Altessano, ancora polmone della comunità locale. Abbiamo fondato due congregazioni religiose, le suore di Sant'Anna e le figlie di Gesù Buon Pastore, per portare avanti le nostre attività. Per anni ho vissuto con le donne carcerate, conoscendo a fondo i loro bisogni, e ho lottato per ottenere una nuova riforma carceraria da parte del governo. L'Opera Barolo è la nostra erede universale, stabilendo che le proprietà fossero amministrate per il bene comune. Da 150 anni l'impegno dell'Opera è a favore dei più deboli. Ieri le detenute, oggi le donne, i bambini, le famiglie italiane, migranti e profughe, i malati, le varie forme di dipendenza. Oggi come ieri, il nostro carisma è educare, sviluppare capacità, rispondere prontamente ai bisogni emergenti della società, in modo attivo, efficace, responsabile, senza mai dimenticarsi che le cose buone e giuste si riconoscono dalla loro bellezza. Grazie a tutti.